Sabato scorso il mercatino settimanale si è svolto in via Ferdinando I anziché a Pian del Lago per via della Fiera di San Michele. A tal proposito il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo in una nota inviata agli organi di stampa ha voluto ringraziare coloro i quali si sono impegnati per lo svolgimento ordinato del mercato del sabato e auspica che sia così anche il prossimo sabato 29 settembre. Ma c'è dell'altro, infatti il sindaco afferma che tornerà a parlare in conferenza di servizi per definire gli atti necessari ad un trasferimento definitivo del mercato del sabato in via Ferdinando I. Per le giornate del 22 e 29 settembre i commercianti ambulanti autorizzati non hanno avuto i posti preassegnati come avviene a Pian del Lago ma questo non ha impedito uno svolgimento ordinato del mercato grazie alla collaborazione di tutti. Della stessa opinione il presidente del comitato di quartiere Balate Pinzelli, Santino Gatto, che ha dichiarato questa sperimentazione sembra portare buoni risultati, i residenti che abbiamo incontrato sono rimasti soddisfatti e per tutta la durata del mercato è stata presente la polizia municipale e diverse pattuglie delle altre forze dell'ordine garantendo la sicurezza e la circolazione, una presenza che positivamente abbiamo tutti notato. Come comitato di quartiere abbiamo sempre sostenuto lo spostamento del mercato settimanale in via Ferdinando I.